Ciao ad nevro! Con una gatta in libertà, la tartaruga senza età, e i canarini, delle che mamma riposi un po', ci penso io, visto che so, a cucinare, mettere in ordine, pulire, fare la spesa, e perché no? Anche a cucinare, paura a lavorare mai, io sono un po' decoratore, e un po' schivista, ma era notte dove so.